In questa conversazione vedremo come la comunicazione video possa essere strategica, possa avere un risultato molto importante per chi oggi vive nel mondo della pubblica amministrazione. Quando diciamo di comunicazione video, intendiamo dire il fatto di diffondere dei video più o meno confezionati, più o meno diretti, ma comunque sempre mettendoci la faccia per parlare con di solito i cittadini, con la popolazione che ha bisogno di notizie, ha bisogno di ingaggio, certe volte vuole anche sentire in qualche modo la presenza del sindaco, dell'amministratore, degli assessori. La comunicazione di video è un po' esplosa durante il periodo che ahimè conosciamo bene della fase pandemica, adesso io vado a connettere delle slide per raccontarvi più nello specifico di che cosa si tratta. Sempre più frequentemente si usa il video, vi dicevo, per rinsaldare il rapporto con la cittadinanza. Può essere uno strumento di coesione, di compattezza, anche su misure di sicurezza e di salute collettiva. Può essere un modo per ridurre il distacco che ci può essere tra il cittadino e le istituzioni. I video vengono di solito pubblicati sul canale YouTube dell'amministrazione, sulle pagine social, su Facebook, su Instagram, su Twitter. Possono essere in casi eccezionali se io ho un indirizzario selezionato di persone con cui interagisco tramite una newsletter comunale, possono essere anche mandati via mail dicendo, sperando di farle cosa credita, le invio, il video del sindaco, dell'assessore ai lavori pubblici, eccetera eccetera. La finalità è quella di creare una rete di flussi e la finalità è di far circolare i messaggi perché di solito un video che voi pubblicate su internet provoca, se non è proprio un video del tutto neutro, provoca un bel passaparola e quindi può essere anche utile per sapere che ci sono delle buone prassi nell'amministrazione. Abbiamo adottato l'informatizzazione dei servizi anagrafe oppure per alcune notizie. Vi comunichiamo che finalmente possono prendere l'avvio, possono prendere il via i lavori per la nuova stazione ferroviaria per cui ci eravamo tanto interessati o per il nuovo parcheggio degli autobus per i pendolari, eccetera eccetera. Insomma è importante in certi casi farsi sentire vicini alla popolazione, talvolta è purtroppo importante farsi sentire vicini per eventi straordinari, negativi o anche durante le festività con un video di auguri. Insomma c'è un insieme di, c'è un arco a vostra disposizione abbastanza ampio di opzioni su come utilizzare il video. Il video è immediato, non ha bisogno di essere eletto, nell'esperienza della popolazione più anziana è un succedario della televisione, mentre i giovani sono più attenti a video molto brevi. Molto spesso se io voglio esortare un comportamento, voglio celebrare un successo in un'area locale, la cosa importante sarà che io anche quando faccio un video che apparentemente è molto spartano, molto semplice, la cosa importante è che io abbia una preparazione a monte abbastanza accurata. Quindi sono, ripeto, attraverso il video si possono comunicare cose diverse, però in molti casi con poco sforzo è facile mettere una musica di sottofondo, dei titoli, una grafica che insomma faccia capire che attraverso quel canale così semplice parla la pubblica amministrazione. Veniamo adesso a come appunto si prepara un video fatto in una certa maniera, fatto professionalmente. Il primo aspetto quando noi prepariamo un video, sia che ci lavoriamo da soli, sia che ci lavoriamo con un piccolo staff di collaboratori del comune, della giunta, eccetera, eccetera, è quello di creare il concept, l'idea guida. E questo mi permette anche di capire se io so qual è il concept, come lo sto concependo, quale tipologia di video. Voglio fare un video che celebra le bellezze tradizionali del territorio, quindi mi farò un video con degli agricoltori che magari stanno facendo la raccolta dell'uva e la vendemmia. Voglio fare un video che esalti la capacità dell'amministrazione di essere efficiente nell'informatizzazione. Insomma, il concept mi dice anche un po' qual è la tipologia e qual è lo stile che voglio complessivamente dare. Non dovrebbe essere molto molto grande un concept, potrebbe stare appena in una pagina, non di più, però è importante rispondere a queste domande. Vedete, io di solito sono abbastanza contrario ai lunghi elenchi di bullet point, però ogni tanto bisogna fermarsi a pensare perché ho deciso di realizzare questo video, qual è il mio obiettivo, a chi mi rivolgo, di quale argomento. Ecco, non posso trattare di dieci cose separatamente. Ecco, normalmente i video richiedono una certa focalizzazione sui temi. Ho un messaggio principale perché, guardate, non sia mai che le persone abbiano a dire, ma alla fine che voleva dire questo direttore di questo dipartimento dei giardini pubblici, ma che ha voluto dire il sindaco. Ma questo assessorato dice dieci cose e non si capisce niente. Ecco, se il video è fatto semplicemente per una necessità di dare pubblicità all'azione dell'amministrazione e non è focalizzato su un master message, le persone se ne accorgono. Ormai la nostra comunicazione deve in tempi brevi far arrivare qualche cosa di decisivo. Cosa vorrei che gli altri facessero dopo aver guardato il mio video e su quali canali lo diffonderò? Sono tutte domande che possono in qualche modo accompagnare e precedere poi la fase di preparazione. Posso nel concept anche dire in che ambientazione lo voglio, prima vi facevo il caso della vendemmia, può esserci anche una scelta se voglio che questo video sia molto emozionale e quindi se lo voglio modificare di sfondo se voglio mettere della musica ed è molto importante sapere questi dettagli anche se noi, anzi, io vorrei dirvi soprattutto se non intendiamo avvalerci per motivi di costi o magari perché ci abbiamo perso gusto a farci i nostri video, non intendiamo avvalerci di un professionista per la cosiddetta post produzione. Cioè una volta girato il video ci monteremo le musiche, le immagini, di repertorio, ci sono dei software con cui questo è molto facile da farsi, però devo sapere già da prima come lo sto concettualizzando quel video. Facciamo un esempio. G genere del videoclip è informativo, l'obiettivo è informare tutti i cittadini della nuova iniziativa comunale con cui verranno consegnati dei buoni pasto alle famiglie. Intenzione dopo aver comunicato lo scopo è informare tutti i cittadini sulle modalità, segnalare che il rilascio dei buoni pasto sarà fatto nel rispetto della privacy con la consegna tramite poste in busta chiusa, non vogliamo mettere in imbarazzo nessuno. Il video mostra il sindaco con accanto la locandina dell'iniziativa, segue una breve disamina sui fondi disponibili, insomma, vedete questo qui è un concept abbastanza semplice, in una paginetta mi tira giù. Dove si svolge? È nell'ufficio del sindaco, lo sfondo è la locandina dell'iniziativa. Se io ho anche un appunto a mano in cui mi definisco queste cose, sarà anche più facile poi discutere di questa cosa eventualmente con l'ufficio stampa dell'amministrazione, cominciare fin da subito a responsabilizzare sul fatto, guardate, sto per girare questo video, questa, questa e questa intenzione, è pronto lunedì prossimo, diffondetelo in questo e questo modo. Quindi il concept serve a me, ma ha anche una funzione di cominciare a impostare il tema con chi poi quel video deve diffondere. E adesso vediamo alcuni suggerimenti proprio dopo il concept su come mettere in produzione il video. Ci sono alcuni accorgimenti che sono molto molto importanti per ottenere una buona qualità, in parte sui contenuti e in parte sulla tecnica. lo script, lo script è quello che prende il concept e lo stiracchia e rende evidente il test, è una specie diciamo di sceneggiatura con i dialoghi, con le cose. Non devono essere proprio accurati, voi non state facendo cinema, non state preparando un programma televisivo, però cominciare a pensare un po' da professionisti della comunicazione o almeno prendere spunto da quello che vi dirò potrebbe essere di non poco aiuto. I tempi, in che tempi si svolge, quanto è lungo. La qualità del video è importante. Molto spesso su Instagram, su Twitter, vedete, su TikTok addirittura, alcuni sindaci si sono buttati addirittura su TikTok per ingaggiare un pubblico più giovanile, vedete dei video di qualità molto molto povera. È mio parere che ogni tanto una qualità un po' spartana del video possa servire a connettersi meglio, per esempio, ai ragazzi che girano video senza benché porsi il problema della confezione di un prodotto editoriale. In ogni caso, se questo è buono per il punto 4, per la connessione emotiva, venga. Ma complessivamente parlando, io suggerirei di badare bene alla qualità di quello che produciamo, perché in qualche modo su quella emissione video sarà sempre sovraimpressa l'insegna del comune, l'insegna dell'amministrazione, un gonfalone, una cosa ho scritto comune di assessorate ai lavori pubblici, insomma, stiamo attenti, e poi come conclude il video e quali sono le sue finalità di quel tipo. Vediamo questi cinque elementi che, ripeto, se li sapete affrontare insieme vi facilitano un poco la vita di produttore di video. Lo script è la sequenza cronologica delle scene, delle azioni e dei dialoghi. In questo modo noi pianifichiamo in che modo passa il messaggio e abbiamo una stima complessiva anche della durata. È bene usare un linguaggio semplice, ecco, questo è molto importante. Stiamo attenti perché c'è un'altra, tra l'altro, conversazione video che abbiamo dedicato a questi momenti di formazione ANCI sulla scrittura, no? Ecco, non vorrei che magari impariamo a scrivere un po' più semplicemente e poi lo script lo facciamo con un linguaggio burocratico. La scaletta degli elementi audio-video da inserire è importante dire qui ci sono le slide, qui ci sono altri video, qui ci sono elementi come il sottopancia che compare con scritto Alberto Castelvecchi, sindaco di Val di Sotto, Val di Sopra, eccetera, eccetera. Per realizzare uno script io devo avere delle colonne, e fra poco lo vedremo, e devo inserire le parole e gli elementi che devo far comparire. Ci devono essere almeno due colonne, poi ci possono essere script più o meno professionali, questo già è a un livello medio, ci sono, vedete, grossomodo il minutaggio, 15 secondi più 4 minuti più 10 secondi più 3 secondi, poi, come vedete, ci sono più o meno dei riassunti nella colonna centrale di quello che si sente, salve a tutti cari concittadini, oggi sono qui per parlarvi di una nuova iniziativa, eccetera, eccetera, eccetera. Il testo mi dice in qualche modo a destra che cosa si vede a video, cioè cosa compare, e per quello che riguarda le note grafiche devo sapere se c'è o non c'è il sottopancia, perché se c'è il sottopancia non è troppo difficile inserirlo, cioè Alberto Rossi, sindaco di, e poi se c'è una sigletta, un'animazione, ci potrebbe essere anche un'animazione di apertura e di chiusura, una musica che diventa, come dire, la musica riconoscibile che quell'amministrazione ha scelto per la sua produzione video, la sigla, la sigla di un vero e proprio videoprogramma. Bisogna cercare di essere brevi, arrivare al punto, e non è semplicissimo oggi perché dovete tenere presente che le persone sono tutte distratte da centinaia e centinaia di segnali. È chiaro che se il sindaco pubblica un video e questo video attiva un buon passaparola, hai visto il sindaco, ho mandato a dire, eccetera, durante la fase della pandemia Covid, tra tante disgrazie a cui abbiamo, ahimè, dovuto assistere, una cosa che ci ha fatto riflettere non poco è stato il modo in cui tanti sindaci hanno preso l'iniziativa e sono riusciti, con messaggi chiari, focalizzati, certe volte esagerando addirittura con il dialetto, ci sono dei video che hanno fatto il giro di tutta Italia perché nessuno aveva sentito mai un primo cittadino esprimersi in dialetto siciliano, in dialetto cuneese o in dialetto emiliano-romagnolo, di qualunque posto fosse. Era un modo per raggiungere la popolazione più di pancia e soprattutto mantenere viva l'attenzione. È chiaro che se io sono arrabbiato perché le persone non stanno rispettando il lockdown o una misura sanitaria straordinaria, parlargli nel dialetto del luogo può essere un modo per riuscire a creare un momento di sorpresa e quindi mantengo l'attenzione. La sorpresa nel mondo della comunicazione, ve lo dico, si dice disruption, scritto disruption, perché alla disruption io posso anche adoperare il dialetto stretto o qualche esperienza di dialetto che io ho con me e posso utilizzarla per riuscire ad agganciare la cittadinanza. Sempre per i tempi, di solito questo dipende un po' dal genere, per i messaggi verso l'esterno bisogna essere piuttosto brevi, circa tre minuti. I messaggi interni, per esempio, se va in qualche modo sistemato tutto un insieme di attività all'interno dell'amministrazione, si può arrivare fino a sette in casi eccezionali dieci minuti. Tenete presente che un video tutorial, un video amministrativo di oltre dieci minuti è veramente ammorbante, anche quando sia un video molto interessante, per cui tenete presente che qui c'è scritto sette dieci minuti, ma come limite estremo, perché un video che sta, ve lo dico per buon senso, tra i cinque e sette minuti. Già è un video in cui succedono tante tante cose. E se volete un suggerimento di massima, quando prepariamo il testo per uno script, dobbiamo considerare che grosso modo un minuto sono 125-150 parole. Oppure se preferite, se non siete abituati a contare le parole, si può fare così. Una cartella di 2000 battute spazi inclusi di Word, una cartella di 2000 battute spazi inclusi di Word, dura circa tre minuti. Insomma, una volta che avete stabilito un tot, diciamo, di pezzatura del vostro video, sapete anche, con il conteggio delle parole, sul vostro script, aggiustare i tempi, tagliando, aggiungendo gli altri elementi di testo che vi servono. C'è poi il tema della qualità. La qualità in qualche modo noi possiamo anche essere snob, ma non siamo dei ragazzini che con TikTok stanno facendo vedere un'immagine. Sì, ci può essere un caso in cui il sindaco, mi ricordo un video molto emotivo, molto bello per me, che ha fatto il giro di tutta Italia, dell'attuale presidente del Lanci, sindaco di Bari, sapete tutti chi è, che andava a fare una strillata a dei cittadini perché non stavano rispettando il lockdown. Ecco, in quel caso non c'è bisogno che il video abbia tutta questa grande qualità, ma se si tratta di un video di comunicazione ufficiale che poi deve essere in qualche modo inserito nel repertorio degli atti ufficiali di comunicazione di un comune, allora vi consiglio di guardare il nostro video didattico numero uno, dove venivano dati tutte queste indicazioni sull'illuminazione, lo sfondo, l'inquadratura, l'abbigliamento curato addirittura, quello che sia più adatto al contesto, e il fatto di cercare di evitare interferenze ambientali. Lì ci sono dei suggerimenti, vi consiglio di attingere alcuni video lì per degli accorgimenti pratici. Ecco, è importante in qualche modo, anche se il messaggio a messaggio, voglio dare notizia a tutta la cittadinanza che a partire da oggi non sarà più possibile fare questo e questo, il sindaco, l'assessore, l'amministratore pubblico hanno anche una connessione emozionale con la popolazione. In qualche modo quindi l'atteggiamento che io devo tenere non deve essere troppo formale o solenne, anche se io sto parlando devo farti capire che tramite quel video mi sto mettendo in ascolto. Lo so che questo vi sembrerà un paradosso, però se rivedete appunto la conversazione numero uno in questa serie di video che abbiamo fatto, lì si spiega proprio per esempio come tenere connessione con la telecamera quando stiamo parlando e vedrete che fra un po' ci saranno degli esempi che vi faccio vedere, lì ci sono stati dei sindaci molto bravi che hanno imparato perfettamente il mestiere, quindi abbiamo degli esempi da farvi vedere, perché se io tengo una connessione visiva con la telecamera, le persone sentono che le sto guardando ma anche e forse soprattutto sentono che le sto ascoltando. E poi si possono usare delle storie. Cari colleghi, vi racconto anche quello che è successo tre anni fa quando abbiamo avviato questo processo e adesso siamo orgogliosi di poter annunciare che cominciamo, facciamo delle regioni, così e cos'è, insomma ho racconto come siamo arrivati a un certo risultato, a un certo raggiungimento dell'amministrazione e lo racconto tramite l'arte dello storytelling. In qualche caso posso anche, e questo vi assicuro che tecnicamente non è troppo difficile, mandare delle immagini, delle immagini di repertorio, mando qualcuno dei miei collaboratori o ci vado io stesso con il mio telefonino a riprendere un cantiere, a riprendere un paesaggio, a riprendere una strada e mentre parlo dico beh i lavori di rassetto stradale hanno proceduto bene, siamo molto contenti perché finalmente la bellissima urbanistica del nostro borgo storico torna alla sua dignità di un tempo, insomma e lì si vedono appunto le immagini che sono dei viali che sono stati, delle aiuole, insomma ci possono essere tante immagini che hanno un senso proprio come immagini su cui scorre la voce. È molto importante però quando essere inquadrato è il sindaco, comunque l'amministratore pubblico, che non ci sia un tono di voce troppo piatto, che non sia in poche parole una cosa in cui diamo notizia a tutta la cittadinanza che fin da ora sarà possibile fare richiesta dei sussidi per quello che riguarda i buoni pasto, ecco se parlo con questa ripetitività, invece è importante che io tengo, un po' come sto cercando, sforzandomi di fare adesso, una cosa che possibilmente evochi la conversazione, quella di un programma alla radio, quella di una interlocuzione con delle persone e poi cercare di non avere un linguaggio del corpo troppo bloccato e troppo chiuso, insomma cercare di essere aperti, non gesticolare troppo davanti al video ma cercare insomma una connessione emotiva molto sincera con la telecamera che vuol dire poi con chi ci guarderà. Ecco, quando noi chiudiamo un video è importante che in qualche modo lanciamo una sfida o un auspicio, una call to action si chiama, che cos'è la chiamata all'azione call to action? Bene colleghi, allora bene amici, bene cittadini, allora bene carissime famiglie del paese di X, è molto importante ricordarvi che tutti noi dobbiamo adesso assumere un comportamento responsabile rispetto a questo, oppure questa era solo la prima delle buone notizie, molte seguiranno ma mi raccomando continuate a voler bene al vostro paese, continuate ad agire tutti insieme perché insieme possiamo farcela, insomma ci deve essere proprio un dire alle persone che cosa ci aspettiamo da loro, questo fa parte di qualunque strategia di comunicazione e un video non fa la differenza e poi insomma mostriamo che il cosiddetto accesso non è solo l'accesso agli atti, quello come sapete delle leggi che consentono l'accesso ad atti amministrativi ma è proprio, lasciamo un dettaglio di contatto, una mail, un collegamento al sito, un collegamento per accesso ad altre risorse per chi vuole approfondire e questo mi permetterà di stabilire con i destinatari un nesso specifico. Veniamo adesso a capire quali sono le tipologie di video prevalenti che potete applicare. La comunicazione nella realtà di un comune è spesso rivolta a un numero molto ampio che va da centinaia a migliaia di persone, fino a centinaia di migliaia, in qualche caso quando parliamo di comuni come Milano a Roma si va nell'ordine dei milioni. Per questo insomma la trasmissione diventa più efficace e anche per le comunicazioni interne comunque un sindaco può rivolgersi anche a centinaia di dipendenti perché ci sono comuni piccolissimi ma anche comuni che hanno un grande bacino di utenza. Allora, io qui passerei in rassegna, poi ce ne possono essere altre, però le principali tipologie che ho esaminato per voi possono essere l'esortazione ai cittadini, un video di carattere informativo che è anche una garanzia che l'amministrazione sta facendo perché c'è sempre un sottotesto, vi informo che abbiamo fatto questo e questo, vuol dire in qualche modo non siamo qui semplicemente per evadere carte, siamo qui proprio per darvi informative dello stato di avanzamento lavori complessivo, di come gira insomma l'amministrazione della vostra città, l'apertura di un congresso, spesso ci viene richiesto di portare i saluti del sindaco, dell'assessore, di andare come amministrazione ad un congresso ma non possiamo andare lì o in qualche caso il congresso si svolge virtualmente, la fase covid è stata come sapete foriera di tanti webinar e tanti congressi che sono svolti online, un video motivazionale di ingaggio per spronare i dipendenti, un racconto di un'iniziativa comunale e anche dei video di sani e belli auguri, ecco grosso modo ho preso questi sei generi. Il video di esortazione vuole raggiungere un obiettivo e quindi è proprio un video diciamo tra tutti è quello che ha la richiesta più esplicita e in qualche modo deve presentare la cosa non però come una comunicazione top down, cioè che va dal primo cittadino o dall'amministrazione verso la popolazione, ma deve essere in poche parole l'esortazione a tirare le persone a bordo per in qualche modo il raggiungimento di un fine comune, quindi è importante che ci sia un noi, che si parli di una comunità, è importante che si sappia bene che cosa chiediamo, non è semplicemente o cercate di stare attenti ma le persone vogliono sentire che l'amministrazione parla con chiarezza, se rispetto a quel comportamento che io intendo sollecitare ci sono eventuali sanzioni è importante che questo venga detto ma mostriamoci disponibili ovviamente a dare per primi noi l'esempio e anche a dare un'informazione necessaria per chi vuole saperne di più. Vediamo per esempio una esortazione ai cittadini di un comune campano, quello di Castellamare di Stabia. Cari concittadini quello che stiamo vivendo è un momento di emergenza nazionale che riguarda anche la nostra città, ribadisco tuteliamo i nostri cari attraverso il rispetto delle regole, io resto a casa, questo è lo slogan che dobbiamo utilizzare tutti limitando al minimo gli spostamenti solo per lavoro, per salute e per acquisto di generi alimentari. Saranno regolarmente aperti i negozi per la vendita dei generi alimentari quindi non accalchiamoci fuori ai negozi evitando così gli assembramenti vietati dal DPCM del Presidente Conte. Andiamo avanti insieme in modo da poter raccontare ai nostri nipoti questo momento difficile che stiamo vivendo insieme e che riusciremo a superare solo se rispetteremo le regole. Un ultimo pensiero va a Fincantieri perché sono tante le segnalazioni che mi stanno giugendo e l'appello va all'azienda e ai sindacati. Tuteliamo le maestranze, tuteliamo le famiglie degli operai che vivono questo momento di difficoltà e di paura. Inoltre cercherò di rispondere essendo presente alle centinaia di messaggi che mi stanno pervenendo attraverso i media. Noi ci siamo, ci siamo per tutelare la città, aiutiamoci e stringiamoci insieme in questo momento di difficoltà. Una seconda tipologia di video è quella di video informativo. Video destinato a tutta la popolazione comunale potrebbe essere un bollettino sanitario, un traguardo d'amministrazione o anche comunicare che da oggi si iniziano delle iniziative benefiche e magari in qualche modo informiamo le persone che ci sono perché hai visto mai che non ci diano una mano. In questo caso bisogna dare un'idea della situazione, dare una previsione degli accadimenti futuri, fornire dei dati tecnici e descrivere eventuali prossimi passi che l'amministrazione intende intraprendere rispetto all'argomento. Quindi è in forma da dettagli ma nel contempo spiega anche perché siamo arrivati a quella iniziativa o a quel risultato e che cosa ne nasce dopo. È importante il fatto che i cittadini e comunque i destinatari di un video sappiano collocare quello che quel video dice in una cronistoria. Cari cittadini, cari amici ed amiche, sapete perfettamente che la nostra amministrazione è sempre stata vicina ai pescatori che con tanta fatica ogni giorno prendono il mare, mettiamo conto che siamo un comune, no? Rivierasco di un comune, no? Quindi è importante, sapete bene che ricorderete che. Poi si dà la vera informazione, non ci devono essere preamboli troppo lunghi, però la situazione generale ecco, quello che si chiama la contestualizzazione, il framing, cioè la cornice generale va sempre tenuta presente, però l'informazione deve essere anche tecnica e secca, cioè bisogna dire quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto, l'informativa appunto, e poi segnalare i prossimi eventuali passi. Vediamo adesso insieme un video del primo cittadino di Milano. Buongiorno Milano da Palazzo Marino, siamo vicini a una prima parziale riapertura, riapertura necessaria e sostanziata da un giudizio della sanità che ci dice che ad oggi la situazione è sufficientemente sotto controllo. Ciò non di meno, molti di voi mi esprimono preoccupazione e mi chiedono cosa succederà. Non lo so cosa succederà, onestamente. Lo vedremo, molto dipenderà dai nostri comportamenti, ma quello che so è che cercherò di misurare con attenzione un'eventuale ripresa della crescita dei contagi. Ora, come si fa a misurare questo fenomeno? Facciamo un passo indietro. I contagi sono figli dei tamponi che vengono fatti. A Milano città vengono fatti circa mille tamponi al giorno, non di più. Questi mille tamponi portano a un numero di contagi che è misurato nella media degli ultimi 14 giorni è pari a 143. Ecco, io considero questa un po' ho una base di partenza e quindi la domanda che mi faccio, la domanda che sto cercando di rivolgere al sistema sanitario Lombardo non ho una risposta compiuta, ma è la domanda che io ho in testa a mia volta è ma quando comincerò eventualmente a preoccuparmi? Quando vedo un trend a salire costante per tre o cinque giorni? quando vedo un livello doppio? Ora, non c'è una formula matematica, sapendo tra l'altro che questi contagi sono la punta dell'iceberg, come ha dichiarato l'Istituto Superiore di Sanità due giorni fa e l'iceberg sotto è molto più ampio, ma si presume che questi contagi e quindi per noi milanesi questi 143 sono sufficientemente rappresentativi della realtà della diffusione del virus. Io vi posso solo garantire che la mia vigilanza sarà attenta, continuerò a chiamare i medici degli ospedali, dei pronti soccorsi, i nostri medici di famiglia e analizzerò con estrema attenzione i pochi, ma speriamo significativi, numeri che abbiamo a disposizione. Buona giornata a tutti voi. Tra i tanti impegni video che possono toccare all'amministratore di un comune c'è il fatto di aprire un congresso o comunque di inviare un indirizzo di saluto. Si tratta di un video in cui si partecipa in qualche modo, è una trasmissione di un saluto istituzionale e si fa in tantissimi tipi di convegno. In qualche caso può essere che il sindaco sia preso a gestire un'emergenza, se si è preso da tante cose, ci può essere che ci sia un territorio molto grande, ci può essere per esempio la congiuntura con una festa patronale, con un impegno ufficiale, con una commemorazione, con una visita di qualche personalità importante in città, insomma non sempre è possibile garantire la presenza dell'amministratore pubblico in quell'evento. Ma ci può stare che ci chiedano quindi potresti per favore mandarci almeno due minuti di saluto di modo da poter dire in quel convegno. Vediamo adesso un breve video di indirizzo e di saluto per l'apertura di un congresso. Poi ci sono dei casi in cui il congresso si svolge totalmente online, come vi dicevo, in cui il video viene registrato proprio per dire, dichiaro formalmente aperti i lavori di. Benvenuti a tutte e a tutti, benvenute a tutti e a tutti, vi ringrazio per avermi coinvolto in questo convegno sulla sviluppo di cultura idroponica e possibilità di nuove tecniche a questo convegno sull'impianto di tecnologie solari per quello che riguarda a questo convegno sull'impatto del PNRR sui territori comunali a noi vicini. Naturalmente mi complimenterò con i progetti, ecco è importante che io non mi limiti a fare un'apertura banale, ma che io mi faccia mandare almeno la brochure del convegno, vedere un po' chi parla. So che in questo convegno parleranno numerose autorità, in particolar modo permettetemi di salutare gli amici e colleghi dell'università di, se l'amministratore viene da una carriera universitaria, permettetemi di apprezzare con quanta accuratezza è stato preparato questo convegno che mi onoro in qualche modo di salutare e di indirizzare con queste poche parole di apertura. Ecco, umiltà però anche insomma mostrarsi informati e anche promettere, però poi le promesse vanno mantenute e mi sono a vostra disposizione se una volta avviata la pubblicazione degli atti di convegno vorremmo studiare insieme future iniziative e permettetemi di augurarvi buon lavoro. Ecco questo grosso modo è l'andamento da tenere. Vorrei farvi vedere due brani tratti da questi video che esemplificano abbastanza bene di che cos'è che stiamo parlando. Buongiorno a tutti. È un onore per me poter porgere il mio saluto e il mio augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti a questo congresso. La vostra è una organizzazione che ha alle sue spalle oltre 70 anni di vita, nel corso dei quali, nei suoi ambiti di intervento, è stata protagonista della storia del nostro Paese. E lo è tuttora, con la sua profonda capacità di inserimento nella nostra società, in molteplici contesti, con i suoi 350.000 iscritti, dei quali moltissimi sono presenti sul territorio della nostra città e il milione di affiliati che ogni anno scelgono i servizi ACLI. Come amministrazione capitolina siamo all'opera, con impegno accresciuto, soprattutto dopo l'insorgere della pandemia, per stare al fianco dei settori più fragili della società, perché anche di questi momenti, di queste occasioni, è fatta la strada che ci può condurre verso la ripresa. Buon congresso a tutti! Benvenuti al convegno Strade Digitali per Genova e Liguria. È un dispiacere per me non poter essere qui con voi. Come sapete, sono sempre stato molto affezionato a questo tipo di sviluppo e sarà per la prossima volta. Voglio lasciarvi un paio di messaggi che secondo me sono assolutamente importanti. Come tutti sanno qui a Genova abbiamo deciso che la visione di città che vogliamo nel futuro sia sviluppata attraverso tre linee di business, il porto e la logistica, il turismo e l'alta tecnologia. L'alta tecnologia quindi passa attraverso le cosiddette strade digitali, ma passa attraverso soprattutto un modo di pensare che vede il digitale come uno strumento, come un mezzo per ottenere i risultati, per ottenere quelle che sono le nostre desiderata, per ottenere quello che noi vogliamo come sviluppo economico della città. Il video motivazionale. I video motivazionali derivano un po' a loro origine dai video aziendali, cioè sostanzialmente si cerca di ingaggiare le persone se c'è un momento di stanca, se c'è un momento in cui, purtroppo insomma lo sapete, spesso leggiamo nelle cronache c'è stato qualche membro dell'amministrazione che è incappato in un incidente giudiziario, c'è stato un dissesto territoriale che ha causato un danno inatteso, c'è un momento in cui quel comune ha una crisi d'immagine per un qualche cosa che è avvenuto nel territorio. Insomma, in qualche caso vogliamo complimentarci con le cose che vanno bene, in qualche caso vogliamo un po' dare la scossa a chi ci ascolta, vogliamo comunque influenzare positivamente, far nascere stati d'animo nuovi, coinvolgere in un cambiamento, quindi spronare e creare coesione e sintonia. La motivazione è fondamentale nello staff di un sindaco, è fondamentale fino al giardiniere comunale, al messo, all'autista dell'autoparco, alle persone che fanno portineria, usceri, sicurezza, eccetera eccetera. Il coinvolgimento, il far sentire le persone a bordo come una squadra è molto molto importante, tant'è vero che magari citiamo le funzioni a cui si rivolge il messaggio, spieghiamo perché stiamo facendo questa cosa, è importante ragazzi che noi cerchiamo veramente di fare così e così e cosà, mi metto in gioco io stesso in prima persona ne rispondo ed eventualmente ecco non limitiamoci a dire coraggio, armiamoci e partite, ma ricordiamoci che siamo sempre a disposizione per tutto il supporto necessario, magari evitiamo le frasi un po' fatte del tipo voi sapete la mia porta è e sarà sempre aperta, perché queste famose porte aperte insomma, se no poi la volta che per caso sono un attimo in riunione mi devo chiudere la porta, la gente chissà che pensa, diceva hai detto che c'era la porta aperta, però senza frasi fatte mettetevi a disposizione e date anche dei suggerimenti concreti su come raggiungere il traguardo che richiedete, quindi ricordiamoci che è importante essere molto chiari che si tratta di una richiesta che non può essere proprio impossibile, ma il video motivazionale spesso chiama un ingaggio forte da chi ci ascolta ed è importante anche sapere che quando motiviamo le persone dobbiamo essere motivate e motivati noi per primi, ecco un video di esempio come video motivazionale del sindaco del capoluogo partenopeo. Un caro saluto a tutte le lavoratrici e lavoratori del comune di Napoli, di tutte le nostre società partecipate, tutte, nessuna esclusa, nel chiedere a ognuno di voi la massima compattezza in questo momento così difficile per il nostro paese e quindi anche per la nostra città, l'emergenza coronavirus ha sconvolto anche il modo di lavorare di ognuno di noi, l'agenda delle priorità, è necessario svolgere con la maggiore tranquillità e consapevolezza possibile, pur in un clima di preoccupazione, le nostre funzioni perché i cittadini ci guardano come punto di riferimento e non ci possiamo sottrarre alle nostre funzioni per il bene comune e per l'interesse pubblico, quindi rimanere coesi, compatti, per quanto è possibile faroriremo il lavoro agile, quindi da casa con una delibera molto innovativa che abbiamo approvato nella giornata di ieri, è fondamentale anche lavorare in un clima di armonia ed è per questo che ho chiesto a tutti più collegialità, più condivisione, più unione ed è anche per questo che chiedo ad ognuno di voi la massima collaborazione anche al nuovo direttore generale che è la dottoressa Patrizia Magnoni che già svolge le funzioni di segretario generale e al nuovo capo di gabinetto Ernesto Pollice che sono a vostra disposizione con tanta competenza, professionalità e passione, quindi supereremo anche questo momento difficile, io sto qui come sempre al lavoro cercando di fare il meglio, ascoltando tutti, prendendo le decisioni e provando a essere un punto di riferimento non solo per voi ma per l'intera città. Uniti possiamo affrontare al meglio anche questo momento così difficile. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Casistica numero 5, il racconto di un'iniziativa comunale. In questo caso il video celebra un successo, diffonde l'informazione ma in qualche modo vuole essere un video di immagine, di comunicazione e di tutta l'amministrazione, quindi c'è in qualche modo il pride, l'orgoglio di quella cosa e in parte poi questa cosa è chiaro che si complementerà anche con chi a quel progetto ha collaborato e fa parte proprio diciamo di quando si riesce ad arrivare ad un risultato concreto, quindi come è nata l'iniziativa, a chi è rivolto il progetto, quali benefici ne porterà la cittadinanza, il territorio, l'economia e i prossimi traguardi che l'iniziativa si propone. Quindi questo grosso modo è il racconto di un'iniziativa comunale. Può essere importante, può essere bello perché è un modo per dire, oh, se per caso qualcuno di voi passando per la tale contrada, per il tale quartiere, ha visto che sono aperti i filamenti battenti della pinacoteca comunale, del museo delle arti grafiche, del museo degli utensili storici tradizionali dell'agricoltura, quello che è, o della mostra che è stata dedicata ai 200 anni della tale presenza, della tale accademia sul nostro territorio, insomma l'iniziativa comunale deve essere raccontata e magari alla fine del video diciamo i nostri prossimi traguardi andavano sempre nella direzione di sempre mettere in prospettiva, mai vantarsi troppo delle cose ottenute, non prendere impegni di prospettiva che non siano concreti, però da come è nata l'iniziativa e che prospettiva c'è dovete essere concreti con dati, numeri e statistiche. La pinacoteca mette in mostra 86 opere, oppure c'è stato un lavoro di due anni da apertura del cantiere alla consegna, all'ultima pietra posata e adesso possiamo dire che finalmente, insomma, i dati, i numeri e le statistiche sono il migliore supporto della concretezza, è un'iniziativa concreta, perché molto spesso nei pregiudizi che hanno i cittadini o i detrattori, i detrattori dell'amministrazione, che possono essere anche semplicemente invidiosi di una bellissima iniziativa, è il fatto che non si date di una cosa concreta, i numeri parlano, i dati parlano. Vediamo un esempio di video che comunque racconta un'iniziativa comunale. Il primo luglio 1995, vent'anni fa, nasceva Cartesio, la prima esperienza di raccolta differenziata della carta, un'esperienza che è cresciuta via via in questi vent'anni e che nel 2014 è stata capace di raccogliere 50.000 tonnellate di carta. Un'esperienza che aveva due caratteristiche, la prima, avviava la cultura della differenziazione nella raccolta dei rifiuti. Oggi la raccolta differenziata è diventata una pratica molto diffusa, ma vent'anni fa era invece una pratica di avanguardia. Cartesio ha avuto il merito di far maturare via via la consapevolezza in tantissimi cittadini, in tante famiglie, nell'intera nostra comunità, di quanto fosse importante differenziare la raccolta e favorirne il recupero e il riciclo. La seconda caratteristica che era che Cartesio è stata fin dall'inizio una cooperativa rivolta a lavoratori che non avevano occupazione o comunque in una condizione di vita e di attività precaria. Un modo per offrire un lavoro e un'occupazione stabile e utile e far uscire quindi da una condizione di incertezza e di precarietà e di rischio di marginalità delle persone. Per questo penso che sia giusto festeggiare questi vent'anni per quello che Cartesio ci ha dato. Ci ha dato in termini culturali, ha aiutato a far crescere una cultura della raccolta differenziata e in termini di inclusione sociale. Mi auguro che Cartesio prosegua con lo stesso successo che ha avuto fin qui e naturalmente gli auguri migliori di lunga vita a Cartesio e alla sua esperienza. Veniamo adesso ad una tipologia di video, quella di auguri, che prevalentemente si fa per augurare Buon Natale e per esempio in particolar modo diciamo se la popolazione esce da una fase difficile, se c'è stato per esempio qualche azienda importante del territorio del comune che ha avuto una crisi, insomma farsi sentire per augurare Buon Natale non è semplicemente una questione di Panettoni o Pandori ma è un modo proprio per dire un altro anno dell'amministrazione è passato. In qualche caso si possono fare anche auguri pasquali o comunque messaggi che precedono il periodo delle ferie estive. Ci possono essere alcuni casi in cui c'è una festa patronale, una sagra particolarmente importante che è un momento celebrativo dell'identità. Mi ricordo per esempio un paese degli Abruzzi che si chiama Cocullo dove c'è una festa con il santo patrono, con i serpenti o Santa, insomma la famosa Santa Catanese, insomma come dire ci sono dei momenti in cui nella festa di un santo o in una sagra particolare pensate al Palio di Siena, ecco ma ci sono tanti tante manifestazioni comunali che sono un po' il perno dell'identità di quel territorio anche rispetto a quello che viene comunicato in tutto il mondo. Allora ci può essere un video appunto particolarmente ben augurale. Per lo più insomma sarebbe una cosa gradita se oltre a mandare dei biglietti di auguri ogni tanto ci facessimo sentire dalla popolazione con un video di auguri di Natale. Ovviamente si tratta di un video che deve essere emozionale, magari un altro anno è passato e finalmente possiamo dire che nel nostro comune andiamo a festeggiare un Natale un po' più sereno perché e c'è qualche raggiunto, traguardo raggiunto, ma non è un video tecnico per cui non possiamo essere esageratamente tecnici e poi insomma è importante semmai che in un video di auguri natalizi si aggiunga qualche elemento a tema, per esempio può starci che il sindaco faccia gli auguri accanto a un albero di Natale, perché no? Ora i decori natalizi sono una parte importante degli impegni anche dell'amministrazione durante le feste e quindi ci può essere una musica di accompagnamento. La selezione degli elementi di contorno e degli elementi diciamo di decorazione dà un'atmosfera particolarmente gradita e piacevole a quel video. Vediamone uno, questo per esempio è della città di Codogno, vedete che fin dalla sua copertina il video comincia con una palla di un albero di Natale e l'emblema del Comune. Cari concittadine e cari concittadini, oggi sono qua con l'intento e con l'ospicio di riuscire a farvi arrivare un momento di saluto e di affetto da parte dell'amministrazione comunale a tutte le famiglie e a tutti i cittadini della nostra città. Il Natale e il periodo festivo che ci accingiamo a vivere sarà un periodo diverso, un periodo particolare come tutto quest'anno è stato un anno direi assurdo, incredibile, drammatico ma soprattutto un anno nella quale la nostra comunità ha dimostrato di essere una grande comunità. Permettetemi veramente di ringraziarvi e condividere con voi l'orgoglio della forza che della nostra comunità ha avuto soprattutto durante le prime settimane, i primi mesi di questa drammatica pandemia che speriamo nel 2021 possa essere veramente l'inizio della fine di questo brutto inco. Il 2021 spero sia un anno che possa portarvi tutte le felicità e le gioie che magari questo 2020 purtroppo non ha dato, non ha profuso. Spero che ci sia il momento di ripartire, di guardare avanti anche per le tante famiglie, per i tanti nostri concittadini che purtroppo ci hanno lasciato e a cui a loro va il nostro pensiero e il nostro abbraccio. Il 2021 deve essere un anno nella quale la nostra città, memore di Beneforza, che ha dimostrato guardi verso il futuro, guardi avanti per ritornare a raggiungere quegli obiettivi che stavamo percorrendo, che volevamo raggiungere, che vogliamo raggiungere per ritornare a essere quella città, quel territorio, quella comunità viva, dinamica, allegra che siamo sempre stati e che vogliamo tornare a essere. Io voglio augurarvi a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale un buon Natale e un sereno periodo di festa, che possa essere veramente l'inizio di un anno e di un periodo migliore, che possa comunque ripagare di tutta la sofferenza e di tutto il dolore che sul nostro territorio questo 2020 ha lasciato. Tanti auguri! Di quali strumenti dobbiamo servirci quando vogliamo realizzare un bellissimo video? Che cosa possiamo fare per dotarci del minimo, diciamo, della strumentazione tecnica per poter girare dei video? Non è detto che noi dobbiamo dotarci necessariamente di uno staff di comunicazione per la creazione di video, perché molto spesso, diciamo, ci sono vari aspetti. Uno, non ci sono i fondi, e vabbè, questo diciamo una cosa in cui nell'amministrazione comunale spesso si parla, sarebbe bello, sarebbe bello che non ci sono i fondi. Oppure magari ci sono dei fondi per attività di comunicazione, ma nel momento in cui l'amministratore crea un video personale, l'idea che usi troppi fondi comunali per la propria comunicazione personale potrebbe essere criticata e addirittura in qualche caso stigmatizzata da chi dice, vedi, usa i soldi del comune per farsi pubblicità, perché sapete che in qualche modo poi il personal brand, cioè il marchio personale, c'è una conversazione specifica in questa serie di video sulla marca personale, sulla reputazione e lato efficace dell'amministratore pubblico, beh, se io, diciamo, pompevo, po', eh, se io stimolo una percezione forte del mio marchio personale spendendo tanti soldi in dei video faraonici, non sono sicuro che sto facendo veramente un'opera di aiuto verso la cittadinanza e anche verso la mia immagine. Si possono utilizzare anche degli strumenti di uso quotidiano oppure strumenti semiprofessionali. Si può utilizzare la normalissima telecamera, la webcam del nostro laptop, oppure con poche decine di euro ci si può dotare di una telecamerina e la maggior parte dei computer è dotata oggi di software di registrazione. Se ne trovano tranquillamente anche da scaricare in rete. Insomma, la spesa può essere di poche decine o di poche centinaia di euro, se vi volete dotare di degli strumenti personalizzati, ma oggi le tecnologie sono diventate più amiche, diciamo, del consumatore e veramente con 60-80 euro posso comprare qualche cosa di veramente molto bello che dà una qualità professionale a quello che faccio. Idemdicasi per le luci, vedete che queste due luci un tempo le avreste trovate esclusivamente negli studi di un fotografo, per poche decine di euro, non oltre i 60 euro, si possono comprare delle lampade di questo tipo, anche ordinandole per corrispondenza su internet e ordinandole via web. A che cosa servono delle luci puntate di questo genere? Servono per evitare eccessive ombreggiature, eccessivi aloni e quindi una lampada professionale anche di poco costo risolve molto, diciamo, spesso una buona luce, ecco, volevo dire questo, il concetto lo voglio chiarire ancora meglio, una buona luce spesso è meglio di un'ambientazione anche molto elaborata in cui però la luce non funziona. I microfoni, in qualche caso potete usare tranquillamente gli auricolari, potete dotarvi volendo di un microfono un pochino meglio, in certi casi potete utilizzare tranquillamente il microfono ambientale del vostro computer o del vostro smartphone, in alcuni casi, anche in questo caso con poche decine di euro, si possono comprare dei veri e propri microfoni professionali che messi davanti al vostro computer, posti a pochi centimetri dalla vostra bocca, conferiscono una ambientazione sonora particolarmente presente alla vostra voce, soprattutto se volete realizzare un video in cui per esempio state parlando sopra la musica. Questo dipende un po' però dalla passione, diciamo, dalla passioncella o semi-passioncella che sviluppate. La mia esperienza mi dice che se cominciate, esperienza, insomma, di confronto con amici e amministratori, se vedete che i video che pubblicate sul canale ufficiale del comune e sulle pagine social del comune, hanno un buon riscontro, ci prenderete gusto e allora magari quei 200 euro a budget per comprare due lampade e un microfono si trovano per riuscire ad avere una buona qualità per i prossimi video. Gli strumenti di post-produzione che cosa sono? Oggi ci sono degli strumenti facilissimi, addirittura si possono montare dei video a partire dal proprio telefonino, video anche dignitosi, e con delle buone musiche. Nel caso che tra voi ci sia un genitore di qualche ragazzo adolescente, sicuramente avete dei figli, qualcuno di voi ha figli, chiedete in casa e vi accorgerete che i ragazzi oggi fanno veramente prodigi, veramente con due dita sul telefonino. Ci possono essere dei software molto facili da utilizzare, PC e Mac, Wondershare, OpenShot, AVS, iMovie. Quando leggete Mac OS vuol dire che l'ambiente è soprattutto Mac, Windows e Mac OS vuol dire che c'è una versione di Wondershare per tutti e due. Se no ci sono iCut o iMovie. Per chi di voi vuole poi comprare un software professionale, non è scritto su questa slide, richiede un po' di addestramento, c'è il famoso Final Cut, ce ne sono diversi che si utilizzano. Diciamo che la scelta di che cosa fare deve essere una scelta di facilità, di praticità. Noi abbiamo pensato di chiedere a Valeria Mascolo, una mia collaboratrice, di raccontarvi come si monta la musica su un video, di farvi vedere alcuni accorgimenti tecnici che non sono difficili. Vedrete che è veramente una specie di giusta posizione di segmenti e a partire dal software che usa in questo video il dottoressa Mascolo, vedrete che grosso modo i criteri di montaggio, quello che si chiama l'assolvenza di un'immagine, l'immagine che sfuma in un'altra, la musica che va sopra, va in sovrapposizione, la musica che va in sottofondo, insomma tutte queste cose. Se volete applicarvici un po', se avete un fine settimana di tempo vi mettete lì e appena vi accorgete che tra le vostre mani prende forma un video con una bella sigla musicale, con delle belle immagini, con una assolvenza e una dissolvenza, vi sentirete improvvisamente. Non vi dico Michael Cimino o Francis Forcopola o Fellini, ma sentirete di avere fatto qualcosa di veramente bello. Salve a tutti e benvenuti in questo breve video tutorial in cui vi mostrerò le funzionalità di base del software Wondershare Filmora. Questo software è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale di Filmora e vi permetterà di realizzare dei video assolutamente efficaci senza aver bisogno di un esperto di montaggio e di postproduzione. Diciamo che dopo questo tutorial diventerete un po' voi gli esperti di montaggio e di creatività. Ma andiamo subito a vedere come funziona. Innanzitutto dopo aver scaricato il software e installato nel PC, questa è l'interfaccia che vi comparirà una volta aperto il programma. Ovviamente io oggi utilizzerò dei video di esempio già contenuti all'interno del programma. Voi potete utilizzare dei video che avete precedentemente girato e in quel caso vi basterà cliccare su questa icona per andare a cercare il video sulla libreria del vostro laptop e caricarlo all'interno del software. In caso contrario questo software vi permette di registrare tre modalità. Registrare direttamente dalla webcam, per cui voi parlate davanti alla webcam e lui vi registra, oppure potete registrare lo schermo del PC, un po' come sto facendo in questo momento con il tutorial, infine potete registrare una voce fuoricampo per magari un video che è fatto di sole immagini e sul quale volete parlare. Andiamo un po' più sul pratico, quindi vedete qui ci sono gli esempi video che la piattaforma ci mette a disposizione. Io volevo caricare questi video della natura, guardate, le isole, la spiaggia e anche il fiore di ciliegio. Qui c'è l'anteprima e qui possiamo vedere come scorre il video. Ecco qui la spiaggia e per finire il fiore di ciliegio. Perfetto. Andiamo però a inserire anche l'audio. Qui ci sono una serie di tracce audio molto interessanti, vedete, vi faccio vedere come si fa. Andate qui, cliccate su audio e avete davvero un'infinità di tracce da poter inserire. Io proviamo, ecco vorrei mettere questa viaggio a Roma e per ascoltarla prima di inserirla vi basterà cliccare due volte sull'icona. Direi che mi piace, quindi la trascino in basso per legarla ai miei file video. Ovviamente vedete che la traccia audio continua rispetto alla lunghezza del mio video. Quindi andiamola a tagliare. Ovviamente questa funzione di taglio funziona sia per l'audio che per il video. Come si fa a tagliare? Allora, trasciniamo il nostro cursore un po' più avanti rispetto al punto in cui voglio tagliare. Vedete? Ci sono due freccette. Noi trasciniamo con la freccetta a sinistra fino ad arrivare al punto in cui voglio tagliare il mio audio. A questo punto cliccando sulle forbici guardate cosa succede. Il software mi duplica la traccia audio. La prima finisce dove finiscono i video. La seconda continua qualora io volessi ripeterla. In questo caso non ci serve, quindi la selezioniamo. Per vedere se è selezionata lo si capisce da questo bordo più spesso e andiamo a eliminarla. A questo punto voglio inserire un altro video. Scusate. Volevo inserire, guardate, questo conto alla rovescia. Questo conto alla rovescia ovviamente come gli altri tre video precedenti non ha audio e mi piacerebbe registrare insieme a voi una voce fuoricampo. Per farvi vedere come funziona. Guardate. Clicco su registra voce fuoricampo, premo sul pulsante rosso, mi dà il countdown e tra un po' registriamo. Ecco una registrazione di prova del mio countdown. Ok, ovviamente la traccia audio si va a inserire direttamente sotto al video che ho realizzato. A questo punto inseriamo degli altri video. Volevo inserire questi della mountain bike per farvi vedere di nuovo come funziona. Quindi prendo i video, li trascino nella barra multimediale qui in basso e aggiungo un altro audio. Quindi aggiungiamo di nuovo l'audio. Andiamo qui su audio. Prendiamo questo. Sentiamo. direi che è efficace e lo posizioniamo qui in basso. Andiamo di nuovo a tagliare l'eccesso della traccia audio. Quindi trasciniamo il cursore a sinistra fin dove ci serve. Ecco qui e tagliamo cliccando sulle forbici. Eliminiamo l'audio in eccesso e a questo punto il nostro video è pronto. Ma prima di chiudere vi insegno un piccolo dettaglio che è molto importante, secondo me è molto utile. Allora cliccando due volte sul video qui nella barra in basso, guardate, potete inserire la dissolvenza in entrata. Lo stesso lo potete fare con gli audio. Cliccate due volte. Io di solito inserisco sia la dissolvenza in entrata che in uscita. Ok, lo facciamo anche per questo, almeno in uscita. Bene, andiamo a vedere il nostro video. Com'è venuto? Via! Ecco una registrazione di prova del mio countdown. Bene, direi che possiamo ritenerci soddisfatti. A questo punto non vi resta che esportare e salvare il video dove lo desiderate. Spero davvero che questo video tutorial vi sia stato utile. Io sono Valeria Mascolo e vi do la rivederci alla prossima video tutorial. Grazie. Bene, ringraziamo Valeria Mascolo per questa importante spiegazione tecnica, solo per farvi vedere che il diavolo della tecnica non è così brutto come lo si dipinge e ora non vi resta che registrare. Vi ringrazio e buona comunicazione video a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti